per esperia viareggio channel martedì ventidue gennaio duemiladodici inizia la settimana lavorativa del viareggio viareggio che viene come ben sapete dalla sconfitta pesante di Prato una sconfitta che lascia davvero tanto amaro in bocca per come eh è maturata eh il protagonista sud è stato sicuramente l'albitro eh di Barletta eh Sirilcaro che eh ha espulso tre giocatori di Bianconeri ha segnato due rigori eh direi dubbi al Prato ma il viareggio non può fermarsi deve deve ripartire perché domenica ai pini si gioca l'andata del semifinale della Lega Pro della Coppa Italia della Lega Pro con il viareggio che affronterà qui il Pisa una partita importantissima i viareggio riuscendo a raggiungere la finale sarebbero davvero davvero vicini a un evento storico quello di vincere la Coppa Italia della Lega Pro adesso però andiamo a sentire due giocatori bianconeri l'attaccante Giuseppe Giovinco e il difensore Eros Pellegrini Insieme a noi l'attaccante dei bianconeri Giuseppe Giovinco Giuseppe domenica il viareggio in trasferta a Prato una partita che sicuramente eh finiva a zero a zero poi qualcosa di strano è accaduto qualcosa che poi anche a far fa poco fa male al calcio perché sono successi episodi abbastanza strani. Sì l'albitro ha deciso di inventarsi due episodi che hanno ribaltato il risultato diciamo quindi in più siamo stati penalizzati dalle tre espulsioni e una squalifica di pizza per la prossima gara adesso cerchiamo di farci già da domenica prossima. Infatti domenica arriva questa semifinale importantissima per il viareggio non era mai andato così avanti in Coppa Italia arriva qua al Pisa le due società sono accordate per anticipare questa semifinale davvero importante poi col Pisa in campionato ci hai fatto sognare. Sì è un'occasione per rifarci un'occasione per tutti quelli che hanno giocato di meno rispetto in campionato poi non so se il mister ci farà giocare deciderà lui però qualsiasi sarà la formazione noi ci faremo trovare pronti. Giuseppe nel corso di questa stagione secondo noi secondo me ma secondo tutti i tifosi bianconeri sei cresciuto tanto e ci stai regalando davvero delle perle come il gol col benevento. Sì questo è grazie al mister che mi sta dando la possibilità non di giocare ma di sbagliare nel senso che giocare lo danno fanno giocare quasi tutti i allenatori il problema che da pure la possibilità di sbagliare e fare qualcosa in più rispetto agli scorsi anni Giuseppe in bocca al lupo per tutto. Crepe il lupo grazie. Iniziamo a noi l'esterno dei bianconeri Eros Pelleghini. Eros domenica scorsa il vereggio era in trasferta a Prato campo che non è mai stato tanto favorevole a noi e anche domenica però forse domenica successe anche qualcosa di più Eros. Guarda domenica è stata una partita stranissima nel senso che il primo tempo è stata combattuta il campo non era un granché quindi è stata molto fisica. Abbiamo ottenuto uno 0 a 0 secondo me poteva anche starci. Il secondo tempo dopo dieci minuti ha dato questo rigore tra l'altro ho rivisto anche le immagini e non ci sia da lì è stata un'altra partita rosso per la morte e poi c'è stata l'espulsione di Sorbo su un altro rigore che secondo me non c'era neppure quello e dopo la partita insomma è finita come è finita. Anche perché su un campo del genere poi un rigore contro rimani in un uomo in meno diventa difficile almeno che non avvenga un episodio di metterle a piedi. Sai altre partite siamo andati sotto mare di un gol però siamo rimasti in 11 contro 11 quindi abbiamo potuto recuperare in 10 è già più difficile se poi ci si mette l'arbitro che è dal secondo rosso rimani in 9 2 a 0 per loro è campo quasi impraticabile lì insomma la partita non era più più fattibile. Eros si riparte domenica arriva il Pisa semifinale di Coppa Italia un risultato mai raggiunto dai bianconeri e per noi via reggini è una grande soddisfazione e siamo vicini alla storia. Sì guarda la storia secondo me si fa solo se si arriva in finale e si vince la finale ed è quello siamo vicini e bravo infatti niente noi anche domenica ce la metteremo tutta per fare una una grande partita e insomma il mister ha tanti giocatori a disposizione credo che non avrà problemi diciamo su chi utilizzare credo che ognuno che ognuno che avrà utilizzato metterà il cento per cento in campo e insomma cerchiamo di fare un buon risultato. Eros davvero grazie e complimenti perché da quando sei via reggio ci dai... beh è vero è vero stai giocando davvero è il secondo anno ma davvero davvero bene. Grazie grazie a voi. Anche per questo martedì è tutto e ricordate ovunque voi siate fino alla fine. Forza! Via Reggio!